Cento anni fa nasceva a San Biase Franco Costabile, poeta ermetico tra le figure più importanti, tra gli esponenti più autorevoli del neorealismo. E oggi Lettera R continua la sua narrazione civile di denuncia politica e sociale utilizzando la poetica, frammenti della poetica di Franco Costabile, la cui biografia è attraversata dal dolore, è segnata dal dolore, dall'abbandono del padre e questo genere di vissuto umano in realtà alimenta, mette in moto un racconto serio di analisi della condizione della Calabria degli anni 50, degli anni 60, i dolori della nostra gente, la condizione del mezzogiorno. Intanto partiamo dai versi che trovate sulla tomba di Costabile, a lui dedicati da Ungaretti, e che condensano, racchiudono il cammino di dolore che segna l'esperienza umana e poetica di Franco Costabile. Con questo cuore troppo canta storie, e qui sono riprese le sue parole, dicevi ponendo una rosa nel bicchiere, e la rosa si è spenta poco a poco, come il tuo cuore si è spenta per cantare una storia tragica per sempre. Costabile, quindicenne, dà alle stampe una sua riflessione, attraverso il linguaggio poetico, della condizione di abbandono che viveva sostanzialmente orfano di padre perché ripudiato, diciamo, dallo stesso. E questa poesia vana attesa contiene, in realtà poco indagata, poco studiata, considerata marginale dalla critica letteraria, però per chi come noi vive di lessico pedagogico, studia il lessico pedagogico, ne fa uno strumento di costruzione di un alfabeto della liberazione civile e sociale. Questa poesia in realtà è un manifesto di prossimità umana che giustifica quello che poi brevemente, noi siamo dentro frammenti della poetica di Costabile, sulla quale poi nel corso, diciamo, dei mesi proveremo a ritornare. Però ecco, questa vana attesa giustifica quel cammino di analisi della condizione di marginalità della nostra terra che Franco Costabile poi lucidamente ci lascia. C'è un passaggio, siamo nel 1939, poeta, era quindicenne, come abbiamo detto. In vano lo aspetto, intento ad imparare qualcosa, quindi parla del padre. In vano ne sogno la carezza e la domando ai tanti che dicono mio padre. Beati loro che sanno la bellezza d'un vigile custode, ovunque sono e ovunque vanno. E la sua voce distinguere ben sanno. Ecco, cosa mancava al giovane Costabile? Mancava il senso di quella custodia che la paternità è in grado in qualche misura di restituire pienamente. Pensiamo per un attimo alla figura di Giuseppe. Giuseppe diventa il custode di Maria, il custode di un mistero, quindi la pratica pedagogica di una paternità politica, non biologica, intesa come accoglienza, come ascolto di una condizione. Ecco, quella stessa accoglienza, quella stessa capacità di ascolto verso i drammi, verso la sofferenza della propria gente, che Costabile decide di raccontare, ma non attraverso una poetica del lamento, ma una poetica che è attraversata dal bisogno di riscatto, e poi proveremo a chiudere in questa direzione. C'è una poesia, tra le tante, che merita, diciamo, una lettura, seppur veloce, è del padrone, dove è, diciamo, viene rappresentata, la è nella sua declinazione di verbo, cioè è del padrone, è cosa del padrone. Parlando evidentemente della condizione della Calabria, la terra che attraverso prima del gallo è del padrone, il grano che mi cresce sotto gli occhi mattina per mattina è del padrone, i colpi di fucile che vengono dal fiume sono del padrone, le donne, le risate sull'aia a mezzogiorno sono sempre del padrone, ma il sole che mi scalda non è del mio padrone. Costabile ci lascia versi straordinari, 1861, sulla condizione del mezzogiorno nella temperie del risorgimento, e quindi la dimensione unitaria e postunitaria che la Calabria e il mezzogiorno conosceranno. È qualcosa che restituisce sotto forma di interrogativo, poi in un'altra strofa molto bella che in realtà condensa diversi motori e motivi di analisi. Noi dobbiamo deciderci, ed inizia questo dialogo, ecco, io e te, Meridione, dobbiamo parlarci una volta, razonare davvero con calma da soli, senza raccontarci fantasie sulle nostre contrade. Noi dobbiamo deciderci con questo cuore. Troppo canta storie. Calabria infame, nel canto dei nuovi emigranti, c'è il dolore per la partenza di migliaia e migliaia di calabresi, ma anche di meridionali, costretti dalle condizioni di vita, diciamo, all'emigrazione, ce ne andiamo, ce ne andiamo via, senza sentire più il nome Calabria, il nome della disperazione. Insomma, dal dolore, per chiudere, dal dolore individuale, dall'abbandono individuale, Costabile riesce a costruire una grande capacità di ascolto collettivo delle sofferenze del nostro popolo, della condizione di violenza politica cui i padroni di ieri sottoponevano la vita quotidiana della nostra gente. Nell'invito a riprendersi il sole, ecco, il sole non è dei padroni, la luce non è dei padroni, diceva all'ende, la storia la fanno i popoli, quindi il sole appartiene a noi, la luce appartiene a noi, la luce non è in mano ai padroni, né ai padroni della Calabria, del mezzogiorno di ieri, di cui parlava Costabile, né quelli di oggi. E questa denuncia, alla fine, diventa, per così dire, cammino di riscatto, o speranza o voglia di provare a promuovere il riscatto. In alcune strofe, in alcuni passaggi, della rosa nel bicchiere. Un arancio il tuo cuore, succo d'aurora, Calabria rosa nel bicchiere. E questa rosa bella, tagliata, quindi la rosa ferita, tagliata, la condizione della nostra terra, della nostra regione, del nostro mezzogiorno, una condizione ferita, quindi piegata dal dolore, delle disuguaglianze, dello sfruttamento padronale, quindi di una condizione anche postunitaria, che ci ha visto sostanzialmente relegati ad ombre della storia, a vittime di una condizione di marginalità politica e sociale. Ecco, questa rosa spezzata è ancora bella. È tenuta in vita dall'acqua, continua ad emanare profumo. Il profumo della speranza, il profumo del riscatto. Ecco, cento anni dopo, questa poetica continua a parlare al nostro cuore, continua a vivere, a raccontarci il dolore, anche per la condizione di sofferenza della Calabria di oggi. Ma è un dolore che deve trasformarsi, che deve trovare una forma sua, di pedagogia, del riscatto civile, nella costruzione della speranza. La rosa nel bicchiere è la metafora della nostra terra, una terra ferita, ma una terra che può ancora riprendersi il cammino verso il proprio futuro.